Con la bella stagione le moto tornano in strada, in strada e in fuoristrada. L'importante è la sicurezza e l'importante è la sera e tornare a casa tutti senza provocare purtroppo eventi che possono essere drammatici o fatali. E' con questo appello che anche quest'anno torna la campagna dei carabinieri forestali Defend Life, dedicata ai controlli per la sicurezza lungo le strade di montagna. Con la bella stagione e con l'arrivo della primavera, dunque i valichi tornano al setaccio tra le strade più critiche, come sempre il passo dello Spino e via Maggio. Vogliamo soltanto che la montagna sia fruita correttamente, che la gente che va in montagna si guardi anche intorno e non pensi soltanto a correre pensando di essere su un circuito. Questo fine settimana invece i carabinieri forestali di Arezzo hanno eseguito dei controlli nell'ambito dei campionati italiani di enduro a Castiglion Fiorentino, ma non solo. Si sono poi spostati anche nella vicina località Polvano, dove durante un posto di controllo sono stati fermati due centauri irregolari. Era necessario essere presenti sia per assicurare la regolarità di una manifestazione con un'affluenza così notevole di persone, di partecipanti, e sia anche per evitare che ci potessero essere poi dopo delle irregolarità, che tutto sommato sono risolte con modestissime necessità di intervento. Sono state fermate due moto, oltretutto non erano concorrenti alla gara, ma dell'enturaggio o comunque appassionati. Uno circolava senza targa, uno senza assicurazione e sulle strade non si può andare in questo modo.